Uno dei luoghi unici di questa grande dimora è il suo atrio monumentale. Lo vediamo oggi in una situazione che fu creata all'inizio del Settecento, ma in origine esisteva un grande scalone che al centro dell'atrio collegava le due loggie laterali. Quindi si saliva immediatamente al primo piano nobile e di lì si aveva accesso ai piani superiori. Fu Carlo Fontana, appunto tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, a creare questo grande passaggio monumentale che invece metteva in collegamento l'atrio con il cortile d'onore e poi col giardino pensile, dando a tutta la struttura architettonica d'accesso al palazzo una sua forma abbastanza unica nel panorama dell'architettura genovese. La cosa davvero straordinaria è che poi riuscì con pochi accorgimenti tecnici ad accostare a quanto si era già costruito in precedenza i due scaloni monumentali che invece, secondo il suo disegno, danno accesso al secondo piano nobile. Quindi è davvero questo uno dei luoghi più importanti sia del palazzo sia di tutta la città, dal punto di vista storico, dal punto di vista dell'evoluzione dell'architettura cinquecentesca ancora di influenza alessiana a Genova. Quello che chiamiamo Palazzo Reale è in realtà una grande dimora genovese costruita dai Balbi, ingrandita con splendore nel Settecento dai Durazzo e solo nel 1824, acquistata dai Savoia, è appunto diventata la reggia della Casa Reale a Genova, una città che con il congresso di Vienna era stata appunto annessa ai domini dei Savoia. È una grande dimora dove la famiglia risiedeva quasi tutto l'anno e che era collegata anche a residenze di campagna dove invece si spostava d'estate. Questo grande atrio passante è abbastanza unico nell'architettura genovese e fu disegnato da Carlo Fontana, un artista ticinese ma romano d'adozione, il successore di Bernini a Roma sia nella fabbrica di San Pietro sia nelle fabbriche per i Gesuiti. Fu chiamato a Genova da Eugenio Durazzo che aveva grandi conoscenze, una rete anche di artisti che lavoravano per lui e che quindi diede a questa dimora genovese una grandeur internazionale unica nel patrimonio architettonico della città. Il palazzo si articola in due grandi piani nobili dove appunto risiedeva la famiglia e quindi di nuovo fratelli, cugini, suoceri, nonni, ma anche in tre piani ammezzati dove invece era alloggiata la servitù. E poi c'erano stalle rimesse per le carrozze, giardini esotici con uccelli, c'era addirittura un teatro, un teatro pubblico, quindi aperto alla città, ma al quale la famiglia poteva accedere direttamente dagli appartamenti. E proprio questi appartamenti fanno oggi di questa dimora uno dei simboli di un'epoca gloriosa della Repubblica Genovese. E mi pare arrivato il momento di andarli a visitare. Grazie a tutti.